Chi non sogna di diventare ricco? Ma come si faccia? Non è così chiaro! Ma sembra che Alex abbia avuto un'idea interessante! Sono ricco! Mi annoio! Guarderò la tv! Questo è lo show Come fare un milione! Mi servono i pop-corn? Beh, interessante! Ho un po' sete! Oh, giusto! Ho un frigorifero nel mio divano! Fico! È proprio quello che mi serve! Ottimo! Oh no! I saldi sono già iniziati! Taxi! Ehi! Taxi! Quando arriverò lì non ci sarà più niente! Ehi! Hai chiamato un taxi? Beh, salta su! Uno skateboard? Beh, non ho altra scelta! Arriveremo in tempo! Eccoci qua! Grazie! Chi ha detto che solo una macchina può fare da taxi? Sei stanca anche tu dei ragazzi fastidiosi? Vuoi una pausa dalle attenzioni maschili? Allora questo profumo è quello che ci vuole! Poche gocce e sarai di nuovo libera! E' così facile! Cercalo nei supermercati di paese! Una festa perfetta è quella in cui tutti ballano con la loro musica preferita! Il K-pop è il migliore! Rock per sempre! E sembra che Nick abbia capito come fare soldi con gli amanti della musica! Ehi! Ascolterò del rap! Ecco a te! Fico! Soldi, macchine e ragazze! Voglio tutto subito! Sono un uomo super ricco! Non chiedetemi perché e come! Oggi è un giorno piuttosto fortunato! Love is all you need! Ehi Jacob! Questa è la tua parte! Uh! E' bello fare affari con te! Saluti, cari telespettatori! Allora, il primo trucco è l'inspiegabile scomparsa del pollice! Oh! Deve fare male! E ora riappare! Grazie! Passiamo al prossimo trucco! Oh! Lattuga! Wow! Sembra una foglia insolita! Sta crescendo dentro di me! Ta-da! Il webshow Mr. Carter's Trick sta prendendo piede! Wow! Come fa a farlo? È un bene che lo show si svolga online! Gli spettatori non scopriranno mai i segreti di questo grande mago! La nostra sessione magica sta per finire! Ma c'è il più importante dei trucchi! Ma c'è il più importante dei trucchi! Ce l'abbiamo fatta! Wow! Dov'è andato? Ecco i nostri soldi! Assistente! Siamo ricchi! Buonasera! 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 Vorrei... Non so nemmeno da dove cominciare! Vuoi bere qualcosa? No, no! Sto cercando una ragazza! Eccola qui! Buonasera! Ho sentito... Oh, capisco! Un altro cliente! Tieni! Bevi un po' d'acqua, ragazzo! Grazie! Sì, così va meglio! Ho sentito dire che si può fare un selfie! Sì, è vero! Scegli quello che ti piace di più! Questo è perfetto! Allora, siediti più vicino! Rilassati! È fatta! Avrai la tua foto dopo il pagamento! Ecco qua! Controlla il tuo smartphone! Wow! Grazie! Wow, si possono fare soldi semplici con i ragazzi timidi che cercano popolarità! La tua lampadina è bruciata e non riesci... A raggiungerla! Ciao, amico! So cosa fare! Non è un problema per il nostro ragazzo alto! Fatto! Ti costa solo 400 dollari! Questo è un grande servizio! Grazie! Quando vuoi! È l'ora dello spuntino! Mmm, patatine! Oh no! La tua mano è troppo grande e rischi di avere fame? Un braccio sottile è quello che ti serve! Non preoccuparti, ti aiuto io! La nostra azienda, ogni piccolo aiuto, offre una varietà di servizi nella vita di tutti i giorni! E non solo! Il numero verde funziona 25 ore al giorno! Ehi, braccio sottile! I ragazzi spesso regalano fiori alle loro fidanzate! Questo significa che si possono fare dei bei soldi con i mazzi di fiori! Soprattutto se il fornitore è una iuola! È una miniera d'oro! Fantastico! È tutto pronto! Comprate belle rose per belle signore! Mi serve un mazzo di fiori e subito! Questo andrà bene! Fantastico! Mi hai salvato! Grazie! Grazie e va bene! Pagare è meglio! Allora i miei affari vanno bene! Non ci vorrà molto ad avere un milione in tasca! Comprate le rose! Chi vuole delle rose? Ah, un altro imprenditore! Aspetta, ladro! Jacob è così simpatico! Se non mi piace, non uscirei con lui! Questo è tutto! Non preoccuparti, papà sta solo cercando di proteggerti! Eccolo! Ti presento il mio ragazzo, Jacob! Non così in fretta, Vanessa! Vieni qui, ragazzo! Piacere di conoscerla, signor Johnson! Oh, che stretta di mano forte! Gli stai rompendo il braccio! Jacob, siediti! James, dai una possibilità a questo ragazzo! Sembra un giovanotto per bene! Jacob, raccontaci di te! Appena mi laureo ad Harvard, ho intenzione di avviare un'attività! Voglio vendere salsicce a credito agli studenti! Interessante! Facci più dettagli, per favore! E ci sarà anche un po' di senape, naturalmente! Beh, è stato un piacere conoscervi, ma purtroppo devo andare! Mia figlia è molto fortunata ad averti! Ci vediamo! Oh, con questo ragazzo faremo milioni di dollari! Beh, sembra che Jacob sia già sulla via della ricchezza! E mia non c'entra niente! Voglio raddoppiare la mia tariffa! Ci sono state delle difficoltà con suo padre! Nessun problema, amico! Sembra che fornire i servizi di un bravo ragazzo sia un'attività piuttosto redditizia! Wow, amico! È stato geniale! Scegli me come socio! Ti serve una quota di partenza! I miei occhiali vanno bene? Sì! Andiamo! Dopo una dura giornata di lavoro, ogni milionario ha bisogno di riposo! L'acqua delle sirene trasforma un normale bagno in una vera laguna paradisiaca! L'acqua delle sirene è disponibile anche su www.naivemillionaire.com Che grande idea per un'azienda! Oh, ancora questa pubblicità! Proprio quando stava diventando interessante! Odio le pubblicità! Ciao, amico! Ciao, Nick! Che ti è successo alla faccia? Cos'è? Parli di questo? Lascia che te lo spieghi! È il mio lavoro! Faccio pubblicità ai prodotti sulla mia faccia! È davvero redditizio! Beh, guarda tu stesso! Voglio farlo anch'io! Ho un sacco di spazio per gli annunci! Nessun problema! Ti prendo come partner! È vero quello che dicono! Dall'odio all'amore c'è solo un passo! Quando si tratta di soldi! Ogni donna dà fare di successo ai suoi piccoli segreti! Latte fresco! Spuntini deliziosi e salutari! Forza! Non siate timidi! Abbiamo solo prodotti naturali! Wow! È troppo per un bicchiere di latte! Questa è una rapina! Questo però ha un buon prezzo! Meglio che prenda delle noccioline piccanti! Ottima scelta! Buon appetito! Fico! Sono così affamata! Oh! Sono più piccanti di quanto pensassi! Ho bisogno di latte! Subito! Quanto? Ne prendo due bicchieri! Sbrigati! Wow! Che astuto trucco commerciale! Starai meglio così non preoccuparti! Ora ti sentirai bene! Beh, se vuoi vivere una vita agiata, cerca di essere intelligente! Ti è piaciuto il video? Allora metti mi piace! Iscriviti al canale! E clicca sulla campanella! Ci vediamo!